La madre di Emir verrà rapita per alcune ore, un evento che creerà un'opportunità cruciale per Kemal e Nian di investigare sulla misteriosa morte di Ozan. Le anticipazioni della seconda stagione di Endless Love rivelano un crescente senso di inquietudine in Kemal riguardo al presunto suicidio di Ozan. Il giovane, convinto che ci sia di più dietro alla tragica fine del fratello di Nian, decide di approfondire la questione. Determinato a scoprire la verità, Kemal coinvolge Nian nelle sue indagini, consapevole che la loro unione potrebbe essere la chiave per svelare i segreti nascosti. Tuttavia, i due sanno che per portare avanti le loro ricerche senza essere scoperti, devono trovare un modo per tenere Emir, marito di Nian e antagonista di Kemal, lontano dai loro piani. Kemal elabora così una strategia audace, far rapire Mujgan, la madre di Emir. Questo piano audace e rischioso è studiato per distrarre Emir, facendogli concentrare tutta la sua attenzione e le sue risorse sulla scomparsa della madre. Mentre Emir si affanna a cercare Mujgan, Nian e Kemal avranno il tempo necessario per esplorare le prove e i sospetti che circondano la morte di Ozan. La decisione di Kemal di far rapire Mujgan non è presa a cuor leggero. Sa che è un'azione estrema, ma la gravità della situazione lo spinge a prendere misure drastiche. Nel corso delle indagini, emergono nuovi dettagli e connessioni che rafforzano i dubbi di Kemal e Nian, avvicinandoli sempre di più alla verità. Le tensioni aumentano e i rischi diventano sempre maggiori, ma la determinazione dei due protagonisti li spinge a non fermarsi. L'intreccio di amore, mistero e pericolo rende questa fase della serie particolarmente avvincente, mentre Kemal e Nian lottano contro il tempo e le forze oscure che cercano di impedire loro di svelare il mistero dietro la morte di Ozan. La scelta di far rapire Mujgan rappresenta un punto di svolta cruciale, un'azione disperata che dimostra quanto siano disposti a rischiare per la verità e la giustizia. Kemal si immerge nelle indagini sulla misteriosa morte di Ozan insieme a Nian. Ecco cosa svelano le anticipazioni della seconda serie di Endless Love. La tragica fine di Ozan, trovato senza vita nella sua stanza d'ospedale, solleva numerosi interrogativi. Inizialmente classificata come suicidio, la morte di Ozan viene rimessa in discussione un anno dopo, quando le ricerche condotte da Zeir portano alla luce una registrazione telefonica cruciale tra il defunto e sua moglie Zeynep. Questa scoperta alimenta i sospetti di Kemal, che inizia a credere fermamente che Ozan sia stato vittima di un complotto mortale orchestrato da qualcuno. Deciso a scoprire la verità, Kemal coinvolge Nian, condividendo con lei i suoi sospetti e rivelandole il contenuto della conversazione tesa e carica di rancore avvenuta tra Ozan e Zeynep poco prima del ritrovamento del corpo senza vita del giovane. L'angoscia di Kemal cresce man mano che le indagini avanzano, svelando un intreccio di inganni e tradimenti. La registrazione telefonica si rivela un tassello fondamentale nel puzzle della verità, evidenziando un dialogo carico di tensione che suggerisce un quadro ben diverso rispetto a quello del suicidio. Ozan, infatti, sembra essere stato intrappolato in una macchinazione letale, un'ipotesi che spinge Kemal a indagare più a fondo, determinato a svelare l'identità del colpevole e a ottenere giustizia per il giovane. Il viaggio di Kemal e Nian alla ricerca della verità si rivela pieno di insidie e colpi di scena, con ogni nuova scoperta che li avvicina sempre di più a una realtà inquietante e pericolosa. La collaborazione tra i due protagonisti diventa essenziale, mentre affrontano insieme un nemico invisibile che sembra disposto a tutto pur di mantenere il segreto nascosto. La tensione narrativa si intensifica, tenendo gli spettatori con il fiato sospeso, in attesa di scoprire il destino di Ozan e l'identità di chi ha orchestrato la sua tragica fine. La versione dei fatti presentata da Soider riesce a convincere Nian, che decide di riporre nuovamente la sua fiducia in lui. Questo ritrovato legame di fiducia spinge Nian a formare una nuova alleanza con Kemal, unendo le loro forze nella determinata ricerca della verità sulla morte del fratello. Consapevole dei pericoli che comporta questa collaborazione segreta, Nian si impegna a mantenere la massima discrezione per evitare di essere scoperta dal marito, Emir. Ogni passo che compiono insieme è avvolto nella clandestinità, e Nian deve destreggiarsi tra le sue indagini e la quotidianità con Emir, cercando di non destare sospetti. La determinazione di Nian è che malcresce, alimentata dal desiderio di giustizia e verità. Ogni indizio che raccolgono li avvicina a svelare il mistero che avvolge la morte del fratello di Nian, ma anche a correre rischi sempre maggiori. La tensione tra i due si fa palpabile, non solo per la pericolosità della loro missione, ma anche per i sentimenti irrisolti che riaffiorano man mano che lavorano fianco a fianco. Nian si trova a camminare su un filo sottile, bilanciando il suo desiderio di scoprire la verità con la necessità di proteggere la sua vita e quella di Kemal dalle conseguenze di una scoperta prematura. Ogni incontro segreto, ogni scambio di informazioni, è un passo verso la verità, ma anche un passo verso il rischio di essere smascherati. La loro alleanza, quindi, diventa una danza pericolosa tra il bisogno di giustizia e la paura di essere scoperti, rendendo la loro missione ancora più avvincente e carica di suspense. Kemal decide di orchestrare il rapimento della madre di Emir. Le anticipazioni turche della sopopera rivelano che Emir, iniziando a sospettare della moglie, decide di seguirla in segreto per monitorare i suoi spostamenti. Per garantire che Emir li lasci liberi di portare avanti le loro indagini per qualche ora, Kemal elabora un piano audace, far rapire Mujgan, la madre del suo nemico. Soider incarica Zeir di eseguire il rapimento, ordinandogli di far sparire Mujgan da casa. Con Mujgan scomparsa, Emir sarà costretto a mettere da parte il pedinamento della moglie per concentrare tutte le sue energie e risorse sulla ricerca della madre. Questo stratagemma offre a Kemal e Nian una finestra di tempo preziosa per investigare senza il timore di essere scoperti. Il rapimento di Mujgan è una mossa strategica e rischiosa, pensata per distrarre Emir e permettere a Kemal e Nian di avanzare nelle loro indagini. La tensione aumenta mentre il piano viene messo in atto, con ogni momento che passa a carico di suspense e incertezza. La decisione di Kemal dimostra quanto sia determinato a scoprire la verità, disposto a spingersi oltre ogni limite per raggiungere il suo obiettivo. Questa situazione consentirà a Kemal e Nian di incontrare un fotoreporter che, l'anno precedente, era riuscito a scattare delle foto al defunto Zan. La possibilità di esaminare questi scatti rappresenta un'opportunità fondamentale per i due investigatori. Kemal mostrerà le foto a un esperto di sua conoscenza, il quale, analizzandole con attenzione, giungerà a una scoperta sorprendente. Le immagini rivelano dettagli cruciali che indicano come la posizione in cui è stato ritrovato il gemello di Nian escluda l'ipotesi del suicidio. La rivelazione getta una nuova luce sulla morte di Ozan, rafforzando i sospetti di Kemal e Nian che si tratti di un omicidio mascherato da suicidio. Questo incontro con il fotoreporter diventa quindi un punto di svolta nelle loro indagini, fornendo prove concrete che li avvicinano sempre di più alla verità. L'analisi delle foto da parte del conoscente di Kemal svela particolari inquietanti, l'angolazione del corpo, la disposizione degli oggetti nella stanza e altri dettagli che non combaciano con la versione ufficiale dei fatti. Ogni nuova informazione raccolta alimenta la determinazione di Kemal e Nian a scoprire chi si cela dietro la morte di Ozan e a portare alla luce la verità nascosta dietro questa tragica vicenda. In questo crescendo di tensione e rivelazioni, la loro indagine si fa sempre più rischiosa, ma la coppia è più che mai decisa a non fermarsi di fronte a nulla. L'incontro con il fotoreporter e la successiva analisi delle foto diventano quindi un tassello cruciale nel complesso puzzle della morte di Ozan, spingendo Kemal e Nian a proseguire con rinnovata determinazione la loro ricerca di giustizia. La morte di Ozan al termine della prima serie ha scatenato un vero e proprio terremoto emotivo nella famiglia di Nian. Le puntate precedenti avevano già preparato il terreno per questo tragico evento, ma l'impatto della scomparsa di Ozan è stato devastante. La notizia del suicidio di Ozan ha colpito profondamente suo padre, Onder, che non è riuscito a reggere il colpo. Il dolore e lo shock hanno portato Onder a subire un infarto fulminante, che si è rivelato rapidamente fatale. Per Nian, la perdita del fratello e del padre ha rappresentato una doppia tragedia che l'ha lasciata devastata. Incapace di sopportare il peso del dolore e dei ricordi, Nian ha deciso di lasciare Istanbul per un po' di tempo, cercando rifugio a Londra. Questo cambiamento di scenario le ha permesso di prendersi una pausa dalle circostanze traumatiche e di ritrovare un po' di serenità. Durante il suo soggiorno a Londra, Nian ha dato alla luce la sua bambina, Denise, un raggio di speranza in mezzo a tanta oscurità. La morte di Ozan non solo ha sconvolto la famiglia di Nian, ma ha anche lasciato un vuoto profondo e un senso di perdita che ha cambiato per sempre le dinamiche familiari. La scelta di Nian di trasferirsi a Londra riflette la sua necessità di allontanarsi dal dolore insopportabile e di trovare un nuovo inizio per sé e per la sua bambina. Tuttavia, il ricordo di Ozan e Onder continua a vivere nei cuori dei familiari, influenzando le loro vite e le loro decisioni anche a distanza di tempo. Riusciranno a trovare la verità? Chi è stato pagherà per il crimine commesso? Grazie, al prossimo video!